La seguente testimonianza è tratta dal libro di Alessandro D'Aripa Bottoni, Graziano e Carmela Micheli intitolato L'umanità di Padre Pio, da pagina 87 a pagina 88. In questa testimonianza gli autori del libro ci parlano del signor Riccardo Bacchelli che nel 1929 andò a San Giovanni Rotondo per far visita a Padre Pio e ci andò con una disposizione d'animo che gli autori del libro definiscono equanime, ovvero non era né prevenuto dall'incredulità ma non aveva nemmeno quella voglia di meraviglie, era semplicemente disposto a rispettare un fatto e da scrutare un uomo senza vana curiosità. E ecco cosa scrivono gli autori del libro. Dopo averlo visto e parlato con lui scrisse, non so se ho discorso con un santo e di ciò semmai dovrà deliberare a tempo suo la chiesa, ma so di aver trovato un uomo il quale per quanto ha mostrato a me, in un'ora di colloquio agevole e sereno, porta l'insegna di ciò che deve percuotere più d'ogni altro mistero la sua coscienza di fedele, o perlomeno costituire la più possente ed insidiosa tentazione ad ogni peccato dello spirito, con semplicità in dubbia, senza acquivoca umiltà, con una chiara fierezza negli occhi e con dignità modesta di frate e di sacerdote. Si stava facendo rifare la tonsura da un frate con una macchina da radere visibilmente disaffilata, che gli dava notevoli strappi ai capelli. Per qualche minuto elli, che ci voltava le spalle, non si avvide della nostra presenza e sottostava la fastidiosa operazione, a spalle tonde, rispondendo con affettuosa condiscendenza alle facezie del frate barbiere che lo rimproverava di curare poco il taglio dei capelli, quando si accorse di noi non mutuo atteggiamento né umore. Padre Pio portava i mezzi guanti per celare le stimmate, sviando la conversazione se qualcuno gliene faceva parola. Discorriamo del più e del meno, scherzando anche, e non capì se nel parlare di argomenti seri elli si esprimesse con giustezza e criterio, come faceva, per naturale buon discernimento o per esercizio di studio, diceva cose fini con parole illetterate, di solida semplicità insolita. Così, discorrendo di un suo detrattore invelenito, si espresse con risoluzione e fermezza, con una severa carità, che mi dissero molto sulla saldezza convinta dell'animo suo. Questa nasceva da un non so che di più spontaneo e nativo della umiltà ascetica e degli esercizi spirituali che avevano contribuito a fortificarla. Parlando di una ritrattazione del detrattore, pari assai violento e velenoso, e dicendosi che costui pareva dire e fare sul serio nel pentirsi, il frate disse «Questo lo spero per lui, per me non ne ho bisogno. Delle stimmate e dei miracoli non si discorre, quasi ci fossero usciti di mente, e questo, per quel che ne posso dire io, con criterio naturale, mi fece a lui pensarci più disposto alla meraviglia e dal rispetto insieme. Tale è stato il mio incontro con uno che un giorno sarà forse sugli altari e che vive nella valle che fu di Giano ed è oggi francescana in Gargano». Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!